Una regione fragile dal punto di vista della conformazione geografica come l'Abruzzo, che in passato ha pagato il duro scotto delle negligenze di istituzioni non solo, da alcuni anni sta cercando, grazie all'encomiabile lavoro dei volontari di protezione civile, di mettere in campo servizi di prevenzione. Anche per questo la protezione civile regionale, con un protocollo d'intesa firmato con Anci e Uncem, ha deciso di rafforzare le cooperazioni con amministrazioni ed enti diversi chiamati a interagire tra di loro in caso di interventi. L'accordo riguarda inoltre l'organizzazione di iniziative volte alla prevenzione dei rischi, all'identificazione degli scenari di pericolosità e alla pianificazione del territorio ai fini di protezione civile. Nello specifico Anci, punto di riferimento organizzativo dei comuni abruzzesi, si impegna ad intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano tematiche di protezione civile o si attuino politiche di sicurezza dei cittadini. Per questo l'impegno è quello di diffondere sul territorio strumenti in grado di razionalizzare l'impegno delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di protezione civile, intervenendo su fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali, nell'individuare risorse per la formazione di eventuali progettualità territoriali. Considerato che il territorio regionale si sviluppa in larga parte su ambiti montani, che richiedono l'attuazione di specifici strumenti a garantire efficaci interventi di protezione civile, l'accordo con UNCEM impegna la stessa Unione a svolgere azioni di tutela del presidio abitativo nei territori montani, come un obiettivo ineludibile per la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente naturale. In questo protocollo parleremo di formazione, parleremo di formazione dei funzionari, parleremo di valorizzazione e promozione del volontariato di protezione civile, parleremo anche di strutture e strumenti per affrontare il coordinamento delle eventuali emergenze sul territorio. Il protocollo con UNCEM rappresenta un dettaglio di attenzione in più alle condizioni particolari, condizioni dei piccoli comuni montani, proprio in virtù delle loro peculiarità e delle loro fragilità negli aspetti di protezione civile e di risposta alla collettività.